Gli ordini dello starter partiti Velocissimo dall'esterno Tagliavini sopravvanzato però da Mordente all'interno ha fatto partenza proprio il favorito in chiusura 2.88 Bentley Seister Boy che alla fine assume un'iniziativa nei confronti di Night Windows molto largo Mordente all'interno Forza Rossa anche stupenda giornata nelle prime posizioni via via tutto il resto del gruppo chiuso da Drag Queens che è preceduta da Tagliavini ingresso sulla curva insomma tre quarti della piegata con Bentley Seister Boy che si mantiene in vantaggio nei confronti di Night Windows stupenda giornata Mordente percorsi esterne percorsi interne si lancia invece Skittish Queen cavalli che sono in addirittura Bentley Seister Boy che si mantiene in vantaggio nei confronti di Night Windows poi lungo la corda progredisce Skittish Queen insieme a stupenda giornata Largo Mordente Bentley Seister Boy si mantiene in vantaggio nei confronti di Night Windows Skittish Queen che finisce bene lungo la corda Mordente che finisce bene all'esterno vince facile però Bentley Seister Boy per il secondo sono vicini Skittish Queen all'interno e Mordente all'esterno mentre al quarto posto dovrebbe essere giunta Night Windows nessun dubbio per il successo vince il favorito al totalizzatore Bentley Seister Boy per i colori del signore Riccardo Billeri il training di Davis Grilli Carlo Fiocchi in sella 2,85 la quota per il secondo posto con molta probabilità ci sarà da attendere l'esito della fotografia sentiamo il giudice di arrivo e giudice che richiede la foto per il secondo posto Mordente all'esterno